Tra le fabbriche della zona industriale di Casinina di Pesaro Urbino sorge un piccolo Santuario, l'Oasi della Pace di Santa Rita. Chi frequenta gli incontri di ogni domenica pomeriggio alle 16.30 esprime la propria gioia per aver partecipato ad un'esperienza che li riempie di pace e grande serenità. Ogni domenica si crea una energia d'amore durante il Santo Rosario e preghiera di Santa Rita dedicato a tutti gli ammalati e il 22 di ogni mese ci si ritrova ancora alle 20.30 per esprimere la profonda devozione a Santa Rita. Informazioni al 335 80 94 107. Visita il sito www.amoreperilsignore.com Hai mai pensato alla rosatura come trattamento? Un lusso alla portata di tutti! Grazie all'azione di vapore e ozono e con la possibilità di strumenti personali. Arresta la calvizie e vi addio a tutti i problemi di cuoio e capelluto con gli raggi infrarossi e prodotti specifici. La bottiglia del barbiere è il stylist Alberto a casinia da viettore. Ciao! 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 Grazie a tutti. Nel giardino che vorrei aprire oggi a Cagallo, un luogo magico, due passi dalla contemporaneità, entriamo in un luogo quasi fattato. Cosa troviamo Roberta? Allora, trovate fiori, piante, fiori, piante fiorite, piante verdi, poi ci sono delle terrecotte di fratte rosa dipinte a mano, fatte a mano. Poi ci sono confetti, insomma tutta la confetteria di tutti i gusti, poi dei tè, la novità probabilmente è quella rispetto ad altri negozi. Dei tè particolari, tè col cioccolato, insomma con vari aromi, insomma un po' particolari così e tutto il corredo dei tè, le tazze, le tisaniere, infusiere, tutte queste cose un po' così che riguardano questo, che per qualcuno è un piacere insomma e poi... Fiori, composizioni floreali e lifestyle come dice il tuo autoslogan, quando è aperto ricordiamo la via. Allora, è Cagallo, via Urbino numero 5, è aperto tutti i giorni, il lunedì giorno di chiusura, anche il domenica mattina, dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30. Gianna, Gianna aveva un coccodrillo, è un dottore. Gianna, 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 Gianna.